buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento della titan academy oggi siamo qui con il dottor stefano montagna che parlerà di alifix e titan del protocollo 3 test di disequilibrio laterale presento brevemente il dottor montagna che ringrazio per la sua presenza laureato in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di parma nel 1986 specializzato con l'ode lavora dal 1989 con attività rivolte esclusivamente all'ortodonzia e ai problemi funzionali correlati all'occlusione è un relatore internazionale con approccio clinico alla gestione delle problematiche ortodontiche e funzionali e lo ringrazio e vi do ancora di nuovo il benvenuto a tutti vi ricordo che per chi volesse porre delle domande c'è la funzione domande risposte di zoom che potrete utilizzare durante tutto il webinar alla fine raccoglieremo tutte le domande il dottor montagna risponderà live alle varie vostre domande grazie ancora e grazie dottore buonasera a tutti grazie dottor clemenzi e iniziamo la allora stasera è l'ultimo webinar che facciamo riguardo all'utilizzo di alifix e parleremo questa questa volta dell'ultimo test il terzo test che il test disequilibrio laterale farò un piccolo riassunto delle puntate precedenti e discuteremo poi alla fine il protocollo generale da utilizzare normalmente quando vediamo un paziente cosa abbiamo imparato le volte scorse abbiamo imparato che si può cambiare un attimo impostazione nel nostro modo di lavorare per migliorare la diagnosi dobbiamo allargare un attimo la nostra visione e valutare oltre che solamente i denti valutare anche la muscolatura che fa parte della bocca e di quello di cui noi dobbiamo occuparci perché noi dobbiamo migliorare o perlomeno mantenere una buona masticazione ai nostri pazienti e un buon comfort abbiamo visto che la mandibola si adatta alle alterazioni del contatto dentale dell'occlusione e si adatta molto spesso cambiando la sua posizione quindi la postura della mandibola molto spesso si modifica si modifica senza che noi ce ne accorgiamo perché molto spesso la maggior parte delle volte per nostra fortuna si modifica senza una sintomatologia particolare e quindi ci troviamo in condizioni nella condizione di lavorare con una postura della mandibola non perfetta non perfettamente equilibrata e questo senza accorgercene quando noi infatti facciamo un esame elettromiografico con titan in questo caso noi vediamo dei dati che ci indicano non tanto un rapporto con un preciso contatto dentale ma ci indicano l'attività muscolare in conseguenza di questa alterazione del contatto dentale e un'alterazione della postura della mandibola quindi i dati che noi vediamo ci dicono guarda che la posizione della mandibola con ottima probabilità non è corretta quindi se questi dati quindi non ci dicono dove l'alterazione dentale che dobbiamo andare a cercare è un errore dire c'è un'alterazione del temporale di destra quindi ci sarà un contatto sulla anteriore a destra no non è propriamente così ci dice solamente quali sono gli effetti dell'alterazione occlusale sulla muscolatura e siccome nei primi webinar abbiamo visto qual è la meccanica la biomeccanica dell'attività muscolare noi andiamo a vedere noi riusciamo a capire grosso modo quale potrebbe essere la posizione della mandibola perché ricordiamo i muscoli temporali tendono ad arretrare la mandibola mentre i muscoli masseteri tendono a determinare un avanzamento della mandibola l'uso incrociato dei due muscoli il temporale il masseter porterà tenderà a portare la mandibola verso il temporale attivo e l'altra copia di muscoli lo porta dall'altra parte quindi cosa abbiamo detto non controlliamo l'occlusione solo delle solo con le cartine perché questo può generare degli errori se facciamo questo noi andiamo a controllare il rapporto dentale probabilmente in una post con una postura della mandibola non corretta quindi andiamo a evidenziare dei contatti che in realtà sono determinati solo da una modificazione della posizione della mandibola inoltre abbiamo visto che non sempre c'è solo un problema di contatto dentale ma c'è anche una sensibilità del paziente che è legata a una a volte a un'alterazione della muscolatura stessa viviamo ormai in un periodo estremamente stressante in cui ci sono molte motivazioni che possono determinare un'alterazione di funzionamento della muscolatura quindi il problema che noi vediamo è veramente un problema determinato da un appoggio dentale non corretto o è per caso un problema che non ha niente a che vedere con il contatto dentale ma è legato a un'alterazione della muscolatura dobbiamo quindi fare una diagnosi differenziale e nei webinar precedenti abbiamo visto che questa si può fare abbiamo visto che il tutto vi è può essere organizzato secondo un protocollo operativo utilizzando sia l'alifix che titan insieme possiamo lavorare in maniera protocollato sia fare sempre seguire sempre lo stesso schema di lavoro per raccogliere i dati del paziente in momenti diversi o in diversi pazienti avevamo detto che il protocollo operativo base è quello del test fare il test di titan ossia il test con i cotoni e il clench inserire l'alifix dapprima con lo spessore più alto del cuneo rivolto posteriormente far masticare e degurtire il paziente due o tre volte chiedere se è comodo eseguire con il titan il test di serramento sull'alifix con lo spessore posteriore invertire la posizione far masticare ancora il paziente chiedergli in quale delle due posizioni più comoda se ce n'è una nella quale ovviamente è più comodo ed eseguire nuovamente il test di titan con il serramento sull'alifix questa volta con lo spessore rivolto anteriormente questo qui è il protocollo base è un protocollo statico statico perché noi facciamo una valutazione della muscolatura durante un serramento l'analisi statica per eccellenza è quella della che abbiamo effettuato col test della posizione comoda il webinar che avevamo fatto inizialmente questo ci permette già di fare una differenza una differenziazione una diagnosi differenziale tra il good responder e il bad responder chi è il good responder il good responder è il quel paziente che dato un dati dei dati alterati inizialmente questi dati si normalizzano o tendono a migliorare molto con l'utilizzo dell'alifix ossia c'è una risposta proprio cittiva della muscolatura che è corretta e al cambiare dell'appoggio dentale c'è un miglioramento della situazione questo è un paziente ideale perché è un paziente che risponde bene a quello che facciamo ed è un paziente nel quale riusciremo a controllare l'occlusione in maniera abbastanza semplice poi abbiamo invece il bad responder ossia quel paziente che nonostante noi mettiamo l'alifix con lo spessore rivolto posteriormente o anteriormente non cambia il proprio quadro elettromiografico ossia come se non ci fosse risposta questi sono pazienti che hanno una modificazione della risposta muscolare agli stimoli proprio eccettivi quindi qui iniziamo già a fare una diagnosi differenziale il bad responder ovviamente ha un'alterazione muscolare che va identificata quindi dobbiamo capire perché non risponde ai nostri stimoli e faremo un'analisi statico dinamica che è il secondo test il test e la stanchezza ossia lo faremo masticare e se durante la masticazione la sensazione di affaticamento e di stanchezza alla muscolatura compare prima dei cinque minuti avremo un soggetto che facilmente avrà una risposta alterata della muscolatura agli stimoli proprio eccettivi perché la stanchezza come avevamo detto nel webinar dedicato è determinata determina un'alterazione metabolica del muscolo riguardo soprattutto il comparto energetico l'utilizzo dell'ossigeno in particolare i dati vengono riportati questi due dati vengono riportati sulla cartella di analisi della muscolatura in cui nella posizione comoda si indicherà se il soggetto sta meglio con lo spessore più alto davanti o dietro qui è segnato la p sulla p di posteriore e il test e la stanchezza dopo quanto tempo insorge la stanchezza e quali sono i primi muscoli a diventare stanchi in questo caso per esempio abbiamo che dopo 30 secondi il soggetto inizia già ad accusare un po di stanchezza e il primo muscolo che rivela questo affaticamento è il massetere di sinistra come vedete indicato qua cosa ci manca ci manca l'analisi delle abitudini della masticazione ossia fare un test dinamico per avere un'ulteriore informazione sulla situazione del soggetto ossia il nostro paziente che caratteristiche ha è un paziente che ci può dare facilmente dei problemi o il paziente sul quale noi possiamo lavorare tranquillamente l'analisi dinamica non è altro che il terzo test quello di cui parleremo stasera il test di disequilibrio laterale in cosa consiste consiste nel far masticare il paziente l'alifix solamente da un lato prima a destra e poi a sinistra questo per evidenziare come si muove la mandibola durante la masticazione prima destra e poi sinistra prendete l'abitudine di iniziare sempre con la destra proprio come si fa con titan si inizia con la masticazione destra e poi la sinistra questo è un semplice test che dura pochi secondi un minuto massimo ma è importante far masticare il soggetto poche volte per vedere se la mandibola si sposta da un lato e lo segneremo sulla nostra scheda di analisi della muscolatura in questo caso abbiamo segnato qua per esempio che il soggetto mastica principalmente andando da un lato clinicamente noi sappiamo che quando mastichiamo da un lato la masticazione la mandibola si sposta da quel lato ci sono i tracciati kinesi grafici fatti c'è la letteratura che piena di questi di questi e di queste osservazioni e la mandibola si sposta dallo stesso lato in una maniera ben definita quello che viene chiamato il ciclo masticatorio il ciclo masticatorio è determinato da un centro che definisce quello che un centro a livello cerebrale di coordinazione motoria che definisce come deve essere il la coordinazione di questo movimento di questo ciclo di masticazione e il ciclo di masticazione è caratterizzato da un utilizzo principale dei muscoli dal lato della masticazione ossia se io mastico a destra utilizzerò maggiormente il temporale il massetere del lato destro e meno quello sinistro nel momento in cui inizierò a masticare sulla sinistra si invertirà la situazione e utilizzerò maggiormente il temporale massetere di sinistra è ovvio che non utilizziamo solamente il temporale masseter ma sono quelli che sono analizzabili con elettromiografia e sono quelli che permettono di valutare sistematicamente quello che accade non possiamo farlo con muscoli più profondi c'è infatti questo lavoro del professor ferrari della professoressa sforza che è data da un po di tempo che proprio evidenzia questa cosa qua ossia che l'attività è maggiore dal lato dove noi mastichiamo ci sono diversi articoli che indicano che l'attività è speculare solitamente altri articoli un pochino meno cosa vuol dire questo vuol dire che se noi facciamo l'esame con con titan avremo il risultato di questo esame riportato graficamente qua che ci fa vedere che il massetere e il temporale vengono utilizzati maggiormente dal lato della masticazione in questo caso la masticazione destra e dall'altro lato avremo l'utilizzo del temporale massetere dell'altro lato durante la masticazione a sinistra a destra c'è nella nella parte controlaterale c'è un'attivazione della muscolatura abbastanza ridotta questa valutazione dal punto di vista grafico già ci fa vedere una situazione di normalità considerate come vi dicevo prima che in letteratura ci sono diversi report che indicano la distribuzione dell'attività muscolare perfettamente simmetrica altri invece riportano che questa simmetria non è necessariamente al cento per cento perché ci sono delle diversità tra destra e sinistra infatti noi siamo destri o mancini e quindi ci possono essere delle diversità che però permettono di far rientrare il soggetto nella normalità quello che ci indica la simmetria è questo indice smi che è l'indice di simmetria che in teoria dovrebbe essere il cento per cento ossia il quadro elettromiografico è identico quando noi mastichiamo a destra a destra e quando mastichiamo a sinistra quindi le due cose i due lati si dovrebbero sovrapporre al cento per cento nell'ideale però siamo nell'ambito ideale qui siamo al 74 per cento di sovrapposizione è direi già un indice che ci permette di avvicinarci molto alla quella che è la normalità abbiamo poi queste due figure centrali che sono due figure che riguardano la prevalenza anteroposteriore della muscolatura il massetere e il temporale vediamo per esempio nella masticazione di destra una prevalenza del massetere e meno del temporale invece abbiamo una specularità tra massetere temporale nella masticazione di sinistra in senso anteroposteriore adesso vi spiego cosa vuol dire vediamo un attimo i dati qui in basso abbiamo la frequenza di masticazione che di solito è sui due due cicli masticatori al secondo sia mastichiamo la il cibo o l'alifix in questo caso uno barra due volte durante il nell'arco di un secondo questo rientra in un dato abbastanza normale poi la frequenza varia in base al in base al tipo di cibo perché più è duro il cibo più si abbassa la frequenza più cibi morbido più aumenta la frequenza quindi sono tante caratteristiche che variano dal in base anche a ciò che facciamo masticare poi abbiamo il l'impact dei temporali e l'impact dei masseteri che altro non ci dice che l'attività dei muscoli quello che ci interessa non è tanto il valore in sé ma che i due valori nella masticazione destra e nella masticazione sinistra siano abbastanza simili perché vuol dire che l'attività muscolare dei temporali dei masseteri grosso modo è simile quando si mastica da un lato e quando si mastica dall'altro lato stessa cosa per i masseteri ovviamente non c'è un riferimento di normalità perché il è un valore in percentuale riferito al test iniziale con i cotoni quindi è un è una variazione di percentuale che non ha in realtà una norma l'importante è che il destro e il sinistro non si discostino eccessivamente uno dall'altro vedete anche l'impact l'imp il lato lavoro svolto e che è la diciamo la l'impegno muscolare quindi l'attivazione muscolare durante la masticazione destra durante la masticazione sinistra il fatto che non siano molto differenti uno dall'altro ci dice che l'impegno muscolare grosso modo abbastanza simmetrico diverso se qui avessimo 2000 e qui avessimo 500 vuol dire che da un lato l'attività muscolare molto ridotta qui infatti vediamo una situazione totalmente diversa in cui sia nella masticazione destra che nella masticazione sinistra abbiamo un utilizzo del molto molto importante del temporale di destra ma in particolare vediamo che nella masticazione destra abbiamo un utilizzo non perfettamente speculare di temporale e di massetere e però quando mastichiamo a sinistra abbiamo un minimo utilizzo del massetere di sinistra e un grosso utilizzo del temporale di destra quindi lato controlaterale qui siamo già in una situazione evidentemente non corretta in cui c'è una asimmetria anche qui i valori del temporale sono abbastanza simili il massetere innanzitutto è basso e un lato è la metà rispetto all'altro quindi vuol dire che da un lato c'è molta più fatica a utilizzare quel muscolo rispetto all'altro lato e anche l'impegno muscolare, l'attività muscolare di un lato durante la masticazione destra è maggiore rispetto alla sinistra, è quasi il doppio quindi inizia a esserci una diversità di utilizzo dei muscoli dal lato destro e dal lato sinistro ecco che il paziente in questi casi preferirà masticare da un lato perché riesce a utilizzare meglio la muscolatura e riesce a masticare meglio alla fine qua abbiamo sempre la raffigurazione in senso anteroposteriore con un massetere poco utilizzato e un temporale molto utilizzato sempre quello di destra però come temporale parlavamo prima della valutazione anteroposteriore e trasversale perché? Perché la mandibola nel momento in cui noi mastichiamo esegue un movimento tridimensionale con uno spostamento laterale e uno spostamento anteroposteriore in letteratura viene riportato una funzione differente tra il muscolo temporale e il muscolo massetere il massetere gioca un ruolo nella fase soprattutto di clench, di masticazione, di triturazione del cibo determinando uno spostamento anteroposteriore della mandibola quello che abbiamo sempre detto soprattutto da dietro in avanti mentre il temporale ha un'azione nelle fasi iniziali della masticazione e determina uno spostamento verso posteriore della mandibola come abbiamo sempre detto l'attività del temporale arretra la mandibola l'attività del massetere la porta in avanti quindi l'uso combinato di questi due muscoli è importante affinché avvenga una masticazione ben equilibrata e soprattutto efficiente ed efficace dobbiamo anche puntualizzare il fatto che molti parametri della masticazione vengono modificati come vi dicevo poco fa per la frequenza da delle caratteristiche propriocettive che nascono a livello locale ossia il movimento della mandibola è gestito a livello centrale ma è modulato da un controllo che arriva direttamente dalla bocca dalla propriocezione della bocca soprattutto dalla propriocezione parodontale quindi c'è un controllo a feedback sulla masticazione vediamo un caso normale qui abbiamo una situazione abbastanza nella norma tenete presente che questo è un paziente che è venuto da me perché vuole fare ortodonzia bene il mondo è bello perché vario e ha una situazione direi abbastanza nella norma quello che questo paziente vuole mettere a posto è questo incisivo in effetti che le dà fastidio la distribuzione dei contatti è buona cioè a livello anteriore forse un po' troppo e a livello posteriore quindi è abbastanza distribuito l'appoggio dei denti l'appoggio principale ce l'abbiamo dove ci sono le aree rosse mentre dove ci sono le aree dal giallo verso l'azzurro il contatto dentale non è marcato questa è la sua situazione a livello elettromiografico col clench in occlusione ci sono piccole alterazioni questi valori non sono eccessivamente distanti dalla norma non accusa sintomatologia la paziente sta bene infatti l'indice globale di equilibrio è all'interno della norma abbiamo una piccola torsione e se mettiamo l'alifix nella posizione più comoda nella quale riferisce la paziente ossia lo spessore anteriore la situazione scusate la situazione si normalizza andiamo da 83-89% rimaniamo sempre in un ambito di normalità si modificano alcuni parametri altri no però si avvicinano molto alla normalità e direi che è una situazione pressoché abbastanza nella norma ma con piccoli eventualmente disequilibri presenti ma che non danno assolutamente sintomatologia il paziente la sta compensando bene e questo qua è il test della masticazione fatto con TITAN mettendo l'alifix prima a destra poi a sinistra e facendo masticare il paziente i dati sono abbastanza buoni la simmetria del reclutamento muscolare è buona quindi siamo in una condizione abbastanza di normalità il test del disequilibrio della masticazione anche a livello clinico facendo masticare a destra e a sinistra ci indica che il paziente riesce a spostare bene la mandibola verso destra quando mastica a destra e verso sinistra quando mastica a sinistra è un paziente questo qua che non ha stanchezza muscolare perché mastica più di 5 minuti quando metto 5 è perché li ha raggiunti senza problemi e ha una preferenza con lo spessore maggiore rivolto anteriormente quindi abbiamo un partner un partner un partner centrale del ciclo masticatorio che è modulato e regolato da un sistema di feedback e feed forward cosa vuol dire? a ogni ciclo masticatorio il sistema riarrangia il suo modo di lavorare sulla base degli stimoli propriocettivi che riceve possono essere i cibi se mangiate del cibo duro o del cibo morbido se avete una condizione occlusale particolare che altera che condiziona il lavoro della muscolatura e la postura della mandibola e altri stimoli che possono arrivare anche dalla muscolatura se c'è una muscolatura stanca e questa stanchezza è per esempio solo da un lato il masseterre di destra ammettiamo ecco che questa stanchezza monolaterale condizionerà il ciclo masticatorio quindi il modo di masticare del paziente in questo caso per esempio abbiamo un morso coperto è un soggetto che deve fare trattamento ortodontico non ha una grossa non ha sintomatologie particolari vuole solamente mettere a posto i denti però vediamo che già a livello occlusale c'è un contatto quando stringe i denti maggiore sul lato destro rispetto al lato sinistro quindi l'appoggio a destra vedete ci avviciniamo all'arancione qualche puntino di rosso qui c'è un contatto rosso sul davanti quindi davanti e a destra c'è un contatto maggiore rispetto a sinistra dove il contatto è molto ridotto se vediamo il nostro test iniziale di clench lo facciamo con lo spessore nella posizione comoda anche questo paziente riferisce una posizione comoda anteriore vediamo che grosse modificazioni non ce ne sono l'indice globale di equilibrio rimane a 75 cambia appena appena il baricentro la simmetria dei baricentri però i dati rimangono tutti alterati quindi da questo cosa possiamo supporre? possiamo supporre che ci possa essere qualcosa che disturba il muscolo nella risposta allo stimolo proprio scettivo e anche qua nel test della masticazione con TITAN abbiamo un'alterazione del normale ciclo masticatorio in questo caso abbiamo come nell'esempio che avevo portato prima un'attivazione di massetere temporale durante la masticazione destra massetere temporale omolaterale e attivazione un po' del massetere ma soprattutto del temporale controlaterale durante la masticazione sinistra e durante la masticazione sinistra abbiamo anche l'attivazione omolaterale però in minima parte del temporale del massetere se andiamo a vedere i dati abbiamo che i temporali aumentano durante l'attività sinistra perché vengono coinvolti maggiormente i masseteri sono deboli in tutti e due i casi sia a destra che a sinistra a sinistra ancora di più si indebolisce l'attivazione dei masseteri però vediamo l'utilizzo globale della muscolatura è maggiore durante la masticazione di destra mentre crolla durante la masticazione di sinistra quindi questo è un soggetto che riesce a lavorare meglio sul lato destro e poco sul lato sinistro quindi molto probabilmente masticherà principalmente sul lato destro se noi andiamo a fare il nostro test con l'alifix in effetti il soggetto si muove più facilmente verso destra mentre verso sinistra non riesce a muoversi correttamente perché l'attivazione dei temporali? abbiamo detto che i muscoli temporali arretrano la mandibola se noi abbiamo un morso coperto quando mastico io devo cercare di far lavorare bene i settori posteriori quindi dovrò arretrare maggiormente la mandibola e soprattutto dal lato destro per far lavorare meglio il lato destro altrimenti se io non porto indietro la mandibola rischio durante la masticazione di sbattere contro gli incisivi superiori e quindi posso determinare anche dei piccoli eventi traumatici sui denti quindi l'organismo cosa fa? si premunisce e col morso coperto si adatta e modifica la posizione della mandibola per ottenere una masticazione migliore considerate che l'alterazione della masticazione dell'attività non tanto della masticazione ma dell'attività muscolare vi faccio vedere questo caso si può evidenziare anche semplicemente facendo fare al paziente la lateralità destra e sinistra con la mandibola perché è globalmente un'attivazione alterata e asimmetrica della muscolatura non è che avviene solo durante la masticazione avviene anche in altri guardate un attimo questo filmato vedete che non riesce ad andare verso destra torna al centro e va verso sinistra e a sinistra invece va bene torna al centro quindi questo caso già semplicemente con un'osservazione clinica molto semplice lateralità destra e lateralità sinistra noi riusciamo a vedere che c'è una situazione di utilizzo diverso tra i muscoli di destra e i muscoli di sinistra soprattutto di coordinazione perché se voi avete fatto caso cerca di compensare con la mandibola verso destra e verso sinistra con altri muscoli con i muscoli facciali perché non riesce a spostare la mandibola verso destra adesso torna al centro e ora verso sinistra torna al centro quindi c'è un'alterazione della funzionalità che non si evidenzia solamente nella masticazione ma si evidenzia anche nei normali movimenti vi sarà capitato senz'altro di valutare le guide canine e di non riuscire a valutarla da un lato vi mettete a limare il canino a tutta manetta per cercare di liberare quel lato lì magari è giusto e se non fosse giusto se fosse solamente un pattern motorio un utilizzo della muscolatura non corretto che per abitudine avviene in maniera migliore da un lato e meno dall'altro cosa facciamo? dobbiamo analizzare la situazione dobbiamo capire questa situazione e quindi evidenziare il problema il protocollo di decondizionamento in cosa consiste? bisogna innanzitutto assicurarsi che il test della stanchezza sia negativo perché? perché se siamo in presenza di una stanchezza muscolare il decondizionamento sia abituare la muscolatura a lavorare in maniera migliore avviene con più difficoltà più lentamente perché la muscolatura abbiamo detto che se è stanca risponde meno bene agli stimoli propriocettivi gli stimoli propriocettivi sono anche quelli di lateralità che portano che cercano di far andare la mandibola da un lato o dall'altro una volta che siamo sicuri che il test della stanchezza è negativo ovviamente se è positivo facciamo un periodo di allenamento in modo da negativizzare il test della stanchezza quindi iniziamo a utilizzare l'alifix con lo spessore più alto rivolto anteriormente perché questo? perché così attiviamo il muscolo temporale e il muscolo temporale oltre ad arretrare la mandibola la porta leggermente omolateralmente quindi favoriamo in maniera migliore lo spostamento da quel lato della mandibola facciamo masticare l'alifix ovviamente dal lato dove il soggetto non riesce ad andare proprio per stimolare la masticazione da quel lato e lo facciamo masticare per 5 minuti dietro fila intanto ci riesce perché il test della stanchezza è negativo per 5 minuti 2 volte consecutive intervallate però da un po' di riposo diciamo per semplicità 5 minuti di riposo basta anche meno a volte però direi 5 minuti di masticazione 5 minuti di riposo 5 minuti di masticazione questo esercizio ripetuto 2 volte al giorno nel giro di 2 mesi grosso modo 1-2 mesi anche di più a volte permette di recuperare quei pattern motori di lateralizzazione che erano stati perduti nel tempo quindi riusciamo a modificare nel tempo il comportamento della muscolatura della mandibola togliendo le vecchie abitudini e ripristinando dei movimenti dei pattern motori corretti io ho messo a rivalutare clinicamente ed effettuare il test della masticazione dopo 2 mesi di esercizi perché 2 mesi è il minimo per valutare degli eventuali risultati perché noi non lavoriamo più in un sistema periferico come avevamo detto nel webinar sul test di posizione col test di posizione noi avevamo e abbiamo una risposta immediata perché? perché c'è una sfruttiamo la via periferica un riflesso periferico non passiamo dal cervello qui invece dobbiamo modificare dei pattern motori ossia degli schemi di comportamento e di organizzazione della muscolatura e questo ci mette più tempo per essere modificato passa perché passa dalla via centrale quindi va a modificare i pattern motori a livello cerebrale quindi ci vogliono alcuni mesi vi faccio vedere questo caso emblematico in cui un ragazzino aveva una laterodeviazione della mandibola voi vedete qua la mediana inferiore è spostata a destra rispetto alla mediana superiore la mamma vedeva che masticava male e quindi c'era un comportamento che le suggeriva che c'era qualcosa è stato corretto aveva anche un palato stretto è stato corretto il problema è stata ricentrata la mandibola e dopo un mese dalla fine del trattamento questo è il risultato nella masticazione io ho fatto masticare l'Alifix prima a destra e vedete che la mandibola si sposta a destra poi ci sono altre cose che si evidenziano però guardiamo solamente la mandibola sulla sinistra cosa succede? la mandibola inizialmente si sposta sulla sinistra dopodiché si risposta nuovamente sulla destra si è abituato a masticare sulla destra perché? perché la mandibola scivolava a destra e quindi la masticazione avveniva principalmente sul lato destro questo dopo aver a un mese dopo aver corretto il problema occlusale in letteratura è riportato che in un 60% dei casi le abitudini muscolari si mantengono dopo la correzione dell'occlusione ma questo è anche normale perché siamo abituati la muscolatura è abituata a lavorare in una certa maniera noi in poco tempo modifichiamo nel giro di qualche mese modifichiamo il rapporto occlusale e non sempre avviene la correzione di questa abitudine muscolare se non nel tempo e per l'ortodontista è una cosa molto importante questa perché i primi sei mesi sono i più importanti per la stabilità del trattamento ortodontico ma se io ho un trattamento ortodontico che mi ha portato a un determinato risultato i denti sono ben allineati ma sono in una condizione in cui la muscolatura è abituata ancora a lavorare come lavorava con la vecchia occlusione e ci mette diversi mesi per adattarsi al cambiamento in questi primi mesi siccome ci mette tanti mesi per modificare la propria attività perché non le facciamo far neanche tanto esercizio ma lasciamo che progressivamente da sola cambi le proprie abitudini ecco che i denti possono spostarsi nuovamente la cosiddetta recidiva che è lo spauracchio di ogni ortodontista quindi abbiamo un fattore muscolare che ci porta inevitabilmente verso una recidiva soprattutto nei primi mesi che sono quelli in cui i denti dopo che abbiamo sbandato i primi mesi sono quelli in cui più facilmente si spostano i denti ecco perché è molto importante andare a correggere queste abitudini in questo caso avevamo un test della stanchezza negativo e abbiamo utilizzato l'Alifix con lo spessore maggiore del cuneo rivolto anteriormente sul lato sinistro dove questo soggetto questo bambino non riusciva a masticare correttamente due volte al giorno cinque minuti di masticazione cinque minuti di riposo e cinque minuti di masticazione sul lato sinistro la rivalutazione è stata fatta dopo quattro mesi questo filmato io l'ho visto prima ovviamente avevo visto che aveva difficoltà ad abituarsi alla nuova situazione al cambiamento delle abitudini ci ha messo quattro mesi dopo quattro mesi masticava così facendo solamente l'Alifix vedete che nella masticazione destra la mandibola si sposta verso destra principalmente è diventato brafissimo a usare l'Alifix a questo punto vedete che la mandibola si mantiene sul lato sinistro quando vi mastica quindi siamo riusciti a cambiare i pattern motori con l'allenamento i concetti sono quelli dell'allenamento della palestra in cui noi progressivamente cambiamo le nostre abitudini scorrette rinforziamo la muscolatura e permettiamo alla muscolatura di lavorare in maniera corretta arrivati a questo punto cerchiamo di riassumere un attimo tutto quello che abbiamo detto con i vari protocolli col protocollo completo dell'uso di Alifix e Titan insieme abbiamo detto che quando analizziamo il nostro paziente dobbiamo fare prima di tutto il test base con Titan ossia la calibrazione con i cotoni e il clench dopodiché inseriamo l'Alifix con lo spessore maggiore posteriore chiediamo al paziente se è comodo lo facciamo masticare due o tre volte eseguiamo il test di serramento sull'Alifix con lo spessore posteriore dopodiché rifacciamo il test invertendo la posizione dell'Alifix facciamo masticare il paziente con lo spessore maggiore rivolto anteriormente e chiediamo al paziente se c'è una posizione nella quale è più comoda questo ovviamente lo riportiamo subito nella cartella muscolare ed eseguiamo il test di Titan di serramento con lo spessore maggiore anteriore riportiamo il dato abbiamo detto nella nostra cartella muscolare dopodiché subito inseriamo l'Alifix solamente sul lato destro con lo spessore maggiore nella posizione comoda eseguiamo il test di Titan della masticazione a destra e intanto osserviamo se la mandibola si sposta dal lato destro oppure se si sposta in maniera non corretta inseriamo poi l'Alifix solamente a sinistra con lo spessore maggiore nella posizione comoda sempre ed eseguiamo ancora il test e andiamo a verificare se il paziente sposta la mandibola dal lato dove sta masticando il vantaggio di Alifix rispetto agli altri dispositivi è che essendo diviso in due parti noi lo possiamo usare singolarmente su ogni parte e andiamo a segnare se il test è normale ossia se la mandibola si sposta a destra e a sinistra normalmente durante la masticazione oppure se si sposta sempre prevalentemente sulla destra o sulla sinistra e lo andremo a segnare a questo punto noi abbiamo fatto i nostri test il test statico e il test di clench e il test dinamico della masticazione abbiamo compilato parzialmente la nostra cartella di analisi muscolare adesso andiamo a fare le verifiche verifichiamo i grafici quello che vi consiglio è di fare la valutazione alla fine quando avete fatto tutti i test in modo da avere una visione globale generale quindi verificate con TITAN se l'uso di Alifix ha migliorato o meno l'equilibrio della muscolatura oppure se il quadro rimane invariato quello che abbiamo detto il good o bad responder se il quadro rimane invariato o peggiora in entrambe le posizioni di Alifix avremo l'indicazione per fare il test della stanchezza e facciamo il test della stanchezza e mettiamo il risultato sulla cartella muscolare se il test della stanchezza risulta positivo appliceremo il protocollo di allenamento corrispondente in base al risultato del test della stanchezza quindi ecco che iniziamo ad avere un quadro clinico e un quadro elettromiografico che iniziano a darci delle indicazioni a questo punto verifichiamo con TITAN la simmetria del test della masticazione e lo correliamo con le sensazioni del paziente sarà il paziente che ci dice ma sì in effetti mastico meglio da un lato piuttosto che dall'altro oppure no mastico bene da tutte e due le parti e se il test della masticazione risulta positivo sia il paziente mastica esclusivamente da un lato e non riesce a masticare dall'altro lato ecco che dobbiamo applicare il protocollo di decondizionamento facendo il masticare l'alifix dal lato dove il paziente fa fatica sempre mi raccomando il test della stanchezza deve essere negativo infatti le abitudini muscolari sono sempre le ultime ad essere corrette perché se c'è stanchezza muscolare fanno fatica a cambiare il bilanciamento occlusale deve essere sempre fatto con il test della stanchezza negativo perché se c'è stanchezza avevamo visto anche nel scorso webinar se c'è stanchezza muscolare noi possiamo essere ingannati da questa stanchezza muscolare sulla presenza di contatti non corretti ci sono ci sono molti pazienti che sentono dei contatti alterati quando vengono in prima visita e si lamentano testa la stanchezza positivo faccio fare l'allenamento dopo una volta concluso l'allenamento per recuperare una buona muscolatura i soggetti sentono l'appoggio dentale corretto quindi non sempre il contatto che viene riportato non corretto dal paziente è determinato da una reale presenza di un precontatto a livello occlusale ma può essere determinato anche da una situazione di stanchezza muscolare la sequenza terapeutica è quindi una volta che abbiamo evidenziato il quadro generale del paziente come prima cosa allenare la muscolatura ovviamente se il test della stanchezza è positiva quindi se viene richiesto una volta fatto questo possiamo fare il controllo occlusale con l'uso dell'Alifix che decondiziona momentaneamente la muscolatura quindi ci permette di riequilibrare la muscolatura avere una postura corretta della mandibola e individuare correttamente come vi avevo spiegato nel webinar del test della posizione individuare esattamente il il precontatto da eliminare e per ultimo andiamo a decondizionare la muscolatura quindi a togliere quelle abitudini che lo fanno masticare più da un lato rispetto all'altro quindi riassumendo ancora meglio il tutto abbiamo una cartella clinica una indagine clinica che facciamo un'indagine strumentale la posizione comoda ci differenzia già il paziente good responder dal bad responder sia il paziente che risponde bene agli stimoli propicettivi da quello che non risponde bene agli stimoli propicettivi quindi iniziamo a fare già una piccola diagnosi differenziale i pazienti che sono good responder solitamente vengono da noi con o ci indicano una sensazione di alterazione del contatto dentale a volte ci danno delle indicazioni errate quindi non crediamo ciecamente a quello che ci dicono ma verifichiamolo dobbiamo quindi decondizionare momentaneamente con l'alifix con lo spessore anteriore o posteriore la muscolatura avremo l'ok da parte di titan che ci dice guarda che se lo metti in questa posizione migliora l'equilibrio della muscolatura e sulla base di quello facciamo la ricerca del precontatto quindi facciamo il nostro controllo cruzale questa è la condizione più semplice è la migliore quella che vorremmo avere tutti perché è quella che ci permette di risolvere più facilmente il problema del paziente poi abbiamo invece il bad responder che è un paziente che riferisce a un appoggio confuso c'è proprio questa parola sono confuso sono confusa il paziente non sa darci delle indicazioni dice che c'è qualcosa che non va a livello dell'occlusione del contatto dentale però non riesce a darci delle indicazioni ben precise in questo caso è possibile che ci sia una stanchezza muscolare qualcosa che altera la propria eccezione quindi è un paziente che non risponde bene all'uso dell'alifix e dovremo fare il test della stanchezza nel caso sia positivo facciamo un protocollo di allenamento dopo aver fatto il protocollo di allenamento e negativizzato il test della stanchezza possiamo fare il nostro controllo occlusale sono pazienti questi che si mordono spesso la lingua o le labbra le guance a parte le situazioni in cui ci può essere un dente mal posizionato che magari ha puntito può dar fastidio soprattutto quando ci sono dei denti del giudizio che nascono in maniera non corretta e il paziente si morde per quella causa lì una buona parte di pazienti che dicono di mordersi frequentemente le labbra le guance e la lingua mentre masticano mentre parlano sono pazienti che hanno un disequilibrio della muscolatura una incoordinazione della muscolatura e quindi un'analisi di questi pazienti è importante per evidenziare la presenza e verificare la presenza di questi disequilibri la soluzione è il decondizionamento della masticazione dopo avere nell'eventualità verificato col test della stanchezza che non ci sia stanchezza quindi in definitiva non dobbiamo ripetiamo non dobbiamo controllare l'accusione solo con le cartine non è una buona cosa può andarci bene ma può anche crearci dei problemi i nostri obiettivi sono quelli principalmente portati ad indicare a controllare la masticazione della paziente e il confort del paziente il paziente ci sa dire benissimo se è una situazione confortevole quella che gli abbiamo dato con il trattamento ortodontico con la protesi con l'otturazione oppure no se si trova bene o no chiedete sempre al paziente e tutto questo però dobbiamo cercare di farlo con un protocollo che sia affidabile ossia un protocollo che ci permetta di lavorare costantemente nello stesso modo se no non riusciamo a raccogliere dei dati e non riusciamo a fare esperienza perché se tutte le volte cambiamo il modo di lavorare non riusciamo a fare quell'esperienza che ci permette di curare in maniera appropriata il paziente spero di essere stato chiaro di aver riassunto un pochino il tutto e se ci sono delle domande ecco chiarissimo grazie mille dottor Montagna allora sì sono arrivate le prime domande allora la prima è la seguente il valore dell'impact in statica che rimane in rosso non ci deve preoccupare no no perché è un valore che risente anche di una risposta della muscolatura al cambiamento nel momento in cui io determino un cambiamento nell'occlusione c'è un riadattamento della muscolatura e la muscolatura prima di risettarsi ci mette un po' di tempo noi dobbiamo considerare che quello che vediamo immediatamente durante i test deve poi assestarsi nel tempo quindi quando vediamo che il valore di rimane alto nella nostra seduta in cui facciamo delle modificazioni non dobbiamo assolutamente preoccuparci controlliamolo dopo uno due mesi e vediamo un attimo se si è mantenuto o meno solitamente si normalizza quindi va controllato a distanza il valore in sé immediato non è molto significativo grazie allora ne è arrivata un'altra nel caso del bambino dopo la fine del trattamento è plausibile che l'abitudine a masticare a destra abbia influenzato anche la convergenza dell'occhio sinistro certo infatti vi avevo detto ci sarebbe dell'altro da valutare però non è questa la sede lì avevo una postura che si è modificata totalmente e si è adattata una postura del capo che si è adattata alla masticazione infatti se avete notato chi l'ha notato c'è stato un atteggiamento di adattamento di modificazione del capo questo perché perché i muscoli della masticazione del collo sono collegati tra di loro quando io mastico solo da un lato c'è un adattamento anche della muscolatura della cervicale soprattutto la muscolatura che controlla la postura del capo quindi c'è una stretta correlazione tra le due parti e questo c'è anche con i muscoli dell'occhio infatti parlare solo di problemi discendenti quando si parla della bocca non è propriamente corretto perché ci sono anche dei problemi ascendenti i muscoli estrinseci dell'occhio sono innervati dallo stesso nervo che innerva i muscoli della masticazione e quindi ci sono delle correlazioni tra i due disequilibri quindi è normale che ci possa essere certo nel frattempo è arrivata un'altra ulteriore domanda nel frattempo sono apparsi i riferimenti del nostro sales manager il dottor Guidolin quindi per diciamo tutti gli aspetti commerciali eccetera sicuramente potete far riferimento a lui allora la domanda è la seguente che è arrivata innanzitutto le pongono i complimenti per tutti questo ciclo di webinar e poi prosegue la persona in questione dicendo ho sentito spesso parlare di precontatti ma nella mia pratica riscontro più frequentemente mancanza di appoggio clusale come è possibile valutare queste situazioni? semplicemente valutando l'equilibrio della muscolatura ossia se io riesco a in questo caso per esempio con Alifix a riequilibrare la muscolatura avrò in quel caso lì una situazione posturale della mandibola corretta quello che avevo spiegato già con i primi webinar se io faccio masticare l'Alifix in una condizione di equilibrio e questo viene attestato dall'esame Titan poi una volta che ha masticato tre o quattro volte tolgo l'Alifix e chiedo al paziente di chiudere piano piano i denti ecco che il paziente riuscirà a indicarci qual è il contatto che sente per primo se il contatto è se non c'è un pre-contatto ma avrà una mancanza di appoggio nei settori posteriori soprattutto lui sentirà non un punto che appoggia ma magari appoggia su tutti i denti anteriori e dietro non sentirà appoggiare quello che non dovete fare mai è togliere l'Alifix e mettere le cartine perché le cartine condizionano immediatamente la chiusura della bocca e il paziente non riesce a sentire dove sta chiudendo se invece togliete l'Alifix e chiedete al paziente di chiudere dolcemente pian pianino di fermarsi al primo contatto dentale questa sarà l'indicazione ottimale per capire cosa fare e da questa indicazione voi riuscite a capire se è un pre-contatto perché a quel punto vi dirà che sente appoggiare solamente in un punto oppure se è una mancanza di appoggio perché vi dirà che sente appoggiare da tutte le altre parti tranne in quel punto lì o in quei punti lì quindi semplicemente in modo clinico riuscite a determinare se c'è una mancanza di appoggio o se c'è un pre-contatto in maniera molto semplice poi ovvio ci sono varie metodiche che permettono di vari protocolli che permettono di evidenziare questo l'Alifix è una metodica molto semplice e immediata che ci permette di verificare subito anche nei confronti del paziente il paziente che ci dice le sue sensazioni e molto spesso le sensazioni del paziente se non c'è una muscolatura stanca sono vere bene poi arrivano delle congratulazioni ritengo dal Sud America perché si parla di fuso orario appunto quindi non della Spagna sicuramente in lingua spagnola le congratulazioni per lei e appunto sostiene di essere un dottore che utilizza Alifix ed è molto felice di applicarlo nella sua pratica clinica non so se appunto avete altre domande nel caso anche al termine di questo webinar vi faccio presente che abbiamo attivato una casella di posta dedicata agli aspetti clinici legati all'utilizzo di Alifix e Titan la casella è alifix chiocciolatitan punto com quindi noi periodicamente raccogliamo tutte le domande che arrivano e grazie a clinici come il dottor Montagna poi vi forniamo tutte le risposte nel caso abbiate dubbi poi nella pratica clinica o anche semplicemente abbiate necessità di un confronto ecco con un altro clinico che magari da più tempo utilizza questi due strumenti direi che non ci sono altre domande io la ringrazio ancora dottor Montagna grazie a voi auguro buona serata a tutti e anche io auguro una buona serata a tutti e seguiteci appunto sui nostri social e sul nostro sito web per i prossimi appuntamenti della Titan Academy arrivederci e buonasera ancora complimenti arrivano ecco che le riporto grazie arrivederci buonasera buonasera a tutti grazie a tutti allihuana a tutti a tutti vediamo le pa leaf semplice buonasera pa OBAMINI